Muovo un pochino le spalle, buona serata a tutti carissimi telespettatori e carissime telespettatrici. Muovo un po' le spalle perché oggi incontreremo nella struttura di Fisioradi qui a Vismara un medico davvero molto 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 preparato per quello che riguarda la patologia traumatologica della spalla. Si tratta del dottor Antonio Padolino, medico chirurgo ovviamente specializzato in ortopedia e traumatologia nello specifico della spalla e del gomito. Questa incredibile articolazione che muoviamo in ogni secondo senza neanche rendercene conto. Siamo con il dottor Antonio Padolino, uno degli ortopedici che appartengono alla squadra del gruppo degli ortopedici di Fisioradi, chiaramente una struttura molto concentrata sulla riabilitazione, sulla fisioterapia e su tutto quello che è il post-traumatologico. Il dottor Antonio Padolino, originario di Roma e che vive a Cattolica a pochi chilometri da noi, è uno specialista della traumatologia della spalla. Quando si parla di spalla, dottore, una delle parole che tante volte si sentono dire e delle quali poco conosciamo il significato è lussazione. Cosa vuol dire lussarsi la spalla? Cosa significa? Buon intanto, buonasera a te, buonasera a tutti. Lussazione è un termine che coinvolge un po' tutte le articolazioni del corpo e la spalla soprattutto, perché ricordiamo che la spalla è l'articolazione più mobile del corpo umano, e quindi soggetta a traumatismi e episodi di lussazione. La lussazione è la perdita completa e definitiva dei rapporti articolari, nel caso della spalla, tra la testa omerale e la glenoide. Essendo un'articolazione con la testa omerale molto grande e la glenoide piccola, un minimo trauma o un trauma che coinvolge le strutture capsulo-legamentose può portare a lussazioni che possono ridursi spontaneamente, autonomamente o con un minimo aiuto esterno, o possono condurre il paziente al pronto soccorso e quindi avere la necessità di una riduzione cruenta della lussazione. Una volta che quindi si verifica che c'è stato il trauma, che quindi un paziente o una persona ha subito una lussazione, esattamente come lo si tratta? Cosa deve fare il medico? Come interviene? Il paziente innanzitutto riconosce subito la lussazione perché è causata da un trauma e quindi si ha proprio questa sensazione di perdita dell'arto, cioè il paziente prova proprio la sensazione di una cosa che fuoriesce e non rientra, nella maggior parte dei casi. Se dovesse rientrare da sola, comunque il consiglio è quello di recarsi da uno specialista o comunque al pronto soccorso per controllare se ci sono state delle fratture. Quindi la prima cosa da escludere, che comunque può essere presente in un episodio di lussazione, è una frattura ossea, sia della testa omerale che soprattutto della glena. Se la testa omerale non dovesse rientrare in sede autonomamente, comunque bisogna assolutamente rientrare in pronto soccorso perché il timing è fondamentale, cioè prima si riduce una lussazione di spalla e migliore sarà il decorso post riduzione. In pronto soccorso bisogna affidarsi a un ortopedico che eseguirà delle manovre di riduzione che possono essere senza o con anestesia perché molte volte la contrazione muscolare impedisce il ritorno in sede di questa lussazione. Quindi un imaging radiografico corretto o supportato da un esame TC sono fondamentali per capire anche la direzione della lussazione, anche questa è fondamentale. Può essere una lussazione anteriore, una lussazione posteriore o più raramente una lussazione inferiore. E questo cambia la manovra che dovrà eseguire l'ortopedico per ridurre e riportare in sede la testa omerale. Detto poi che è molto facile procurarsi infortuni, traumi alla spalla, nello sport, in tutte le età da bambini, da giovani e da adulti, ecco, ma c'è una grande differenza anche fra l'età in cui dovesse intercorrere un infortunio come questo? Chiaramente per un bambino o un ragazzino è molto diverso che per un adulto. Assolutamente sì. L'età anagrafica del paziente è fondamentale per spiegare al paziente stesso come può essere l'iter e capire anche che cosa può aver provocato, a parte il trauma, questa lussazione. Cioè in pazienti più giovani, diciamo dai 16 ai 20 anni, un episodio di lussazione può diventare anche chirurgico già al primo episodio di lussazione, mentre man mano che si va avanti con l'età il trattamento conservativo è quello al primo episodio, è quello che la fa da padrone. In età adulta, diciamo, avanzata dai 50 anni in su, dai 50 mettiamo ai 60-70, l'episodio può essere legato a un'insufficienza della cuffia dei rotatori, quindi anche una lesione importante della cuffia dei rotatori con un minimo trauma può provocare un episodio di lussazione, così come dai 70 ai 80 anni. L'importante è riconoscerlo e trattarlo perché alcune lussazioni anche in pronto soccorso risultano misconosciute e quindi vanno a casa con spalle magari lussate, soprattutto posteriormente, quindi con un decorso molto traumatico per il paziente. Certo, al punto tale che non è detto che ci si debba operare, però potrebbero esserci dei percorsi proprio dei trattamenti e delle riabilitazioni ben mirate per far sì che si arrivi all'operazione o a eventi un po' più traumatici per il paziente. Assolutamente sì, infatti la prima lussazione è un episodio dibattuto tra gli ortopedici, soprattutto dalla spalla, domanda congressuale classica. Si sta andando verso un aumento dell'intervento chirurgico ai primi episodi perché si è visto in letteratura che lasciare una prima lussazione con solo la immobilizzazione, solo con la fisioterapia, può portare a un aumentato rischio di riuscidive di lussazione, fino al 20-30%. Quindi in alcuni casi, come sportivi, sportivi di alto livello, il primo episodio dopo aver fatto una risonanza magnetica o un'altra risonanza può condurre all'intervento chirurgico. Questo non è detto per i casi, per i pazienti più avanti con l'età, dai 30 in su. Di solito il primo episodio si fa passare in maniera conservativa. Se non c'è una lesione importante, se non c'è una lesione ossea, se c'è solo una lesione capsulo-legamentosa non importante come un distacco capsulare, il paziente può essere trattato con un'immobilizzazione che va dalle 3 alle 6 settimane con un tutore in abduzione e poi iniziare un percorso fisioterapico che vada a riportare un buon bilanciamento della spalla e della scapola e ricondurre il paziente a una buona propriocezione e quindi fare una vita normale con un rischio di recidiva di lussazione nettevolmente ridotto. Proprio questo è la discussione fondamentale, cioè il rischio di recidiva, perché se c'è una lussazione senza rottura della cuffia, con una lesione del cercine glenoideo, che è la parte che ricopre la glenoide in toto e permette alla spalla di essere stabile in quanto crea una pressione positiva interna, il paziente può, dopo un periodo di riabilitazione che può andare dopo l'immobilizzazione delle 3-6 settimane, può andare per circa due mesi, il paziente può tornare alla sua attività pre-lussazione. Per quanto riguarda invece quei pazienti che andranno incontro a chirurgia, anche lì poi avranno bisogno necessariamente di un trattamento riabilitativo dopo un'immobilizzazione per far guarire le strutture che noi siamo andati ad operare, che va comunque dai 3 ai 4 mesi. Quindi dopo l'intervento chirurgico la fisioterapia è lunga per riportare la spalla a un buon concetto di recupero nello spazio. La spalla, come dicevamo all'inizio, è il mobile del nostro corpo. Infatti la volevo riportare qui in chiusura perché mi era molto piaciuta l'apertura, nel senso che non ce ne rendiamo conto, però in realtà è la spalla l'articolazione che più è sottoposta a movimento, a improvvisi cambiamenti di direzione e non ce ne rendiamo conto. Le faccio un esempio. Quando molti pazienti vengono e hanno delle lesioni di cuffia o delle instabilità da tanto tempo e dicono ma io non ho avuto mai male, com'è possibile che adesso c'è questa cosa che lei mi dice che c'è da tanto tempo? Perché la spalla sfrutta la forza di gravità per andare verso il basso, ma tutti i vettori vanno nelle diverse parti, quindi ad esempio il sottoscapolare tira avanti, la cuffia rotatori stabilizza la spalla e quindi una perdita di una di queste direzionalità può creare un'instabilità e quindi dare dolore alla spalla. Non andiamo nel campo dell'instabilità altrimenti troveremo un mondo da quel punto di vista anteriore e posteriore, però chiaramente una volta che si lussa la spalla una visita specialistica e un buona direzione di riabilitazione ci impedisce di andare verso un contro una cosa cronica, quindi un'instabilità di spalla. E infatti suggeriamo ai nostri ascoltatori di riguardare bene questo video che abbiamo fatto grazie al dottor Padolino, anche perché provate a guardare quanto muove le spalle mentre parla e quindi è proprio indicativo di quanto questa articolazione sia sottoposta a uno stress continuo. Dottore grazie davvero, è stato molto chiaro, buon lavoro e quindi buona spalla. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a tutti.